Vediamo i giornali che prendono sempre in giro il cittadino, oggi noi crediamo che il giornale ci dica la verità, che ci guidi eccetera, però è chiaro che ci sta manipolando la mente. Partiamo da una notizia stupida, partiamo dalla 1, dico la regia, video, e cioè Repubblica ci ha raccontato da parte di questo Fabio Bordigon, ma ovviamente noi riteniamo che il direttore sia il responsabile di quello che viene scritto, che l'identikit di quella che loro chiamano la minoranza no pass, cioè quelli che non vogliono il green pass, cioè quelli che ancora credono che la Costituzione esista, chi sono secondo Repubblica? Sono under 50 e di destra. Ora, questo è il loro identikit, la figura di un maschio, maschio, hai capito, fra i 30 e i 50 anni con basso livello di istruzione, ecco hanno già cambiato la cosa, aspettate per cambiare per cortesia, però torniamo a quella precedente, ecco, la figura di un maschio fra i 30 e i 50 anni con basso livello di istruzione, residente nel nord-est, operaio o disoccupato. E allora abbiamo già visto l'immagine successiva che ci mostra chi sono, e lo diciamo alla radio, anche per quelli che ci ascoltano alla radio, chi sono questi 30 anni, 50 anni con basso livello di istruzione, residente nel nord-est, operaio disoccupato. I primi due che hanno beccato e che hanno cercato di massacrare sono il professor Cacciari e il professor Agamben, che vediamo. Però sono veneti tutti e due. Sono veneti tutti e due, hanno l'unica cosa che sta da azzeccare. Veneti l'hanno azzeccato. Siccome però ci sei in mezzo anche te, probabilmente tu non sei veneto, quindi... No, sono napoletano-romagnolo. Sei napoletano-romagnolo, quindi con te non ci avrebbero a azzeccato. Adesso noi abbiamo messo i due perché tu ci sei e ti vediamo e quindi la foto è quella. Poi c'è un'altra notizia che è apparsa nei giorni scorsi, dappertutto, prendiamolo ad esempio dalla TGR della RAI, perché è fonte autorevole, che diceva il 13 novembre, nel suo inserto salute, che i posti letto occupati dai Novax sono praticamente esauriti, proprio perché sono occupati dai cosiddetti Novax. Salta il ricovero di un malato oncologico. La denuncia di un direttore del Gallera e quindi cresce la paura, la curva dei contagi. Quindi qual è la notizia terroristica? Attenzione che quei criminali dei Novax stanno occupando tutti i posti in ospedale e quindi se ti sei ammalato di un tumore non puoi entrare in ospedale perché ci sono quei coglioni che occupano gli ospedali. Si è incazzata la direzione sanitaria dell'ospedale che, sempre sulla RAI, chiede una rettifica che, ecco qui, mostriamo, e che dice, giustamente, la direzione dell'ospedale Gallera, in merito alle dichiarazioni del professor Andrea Decenzi sulla mancanza di un posto letto per un paziente oncologico, precisa che la decisione di curarlo a casa sua, invece che ricoverarlo, è stata determinata da una scelta medica e non da carenza di posti. Ora, è chiaro che chi ha scritto quell'articolo, così come sulla storia della Camilla, se vi ricordate, la povera Camilla, eccetera, eccetera, chi scrive queste cose, per me, il giorno dopo, deve andare a casa, non può più fare il giornalista. E le persone che guardano i mezzi che diffondono queste notizie dovrebbero spegnerli per sempre, perché non sono più fonte di informazione reale. Poi vediamo quello che ci dice l'onorevole Francesca Donato, che, ovviamente, lei è un eurodeputato, e ci dice, guarda, io sono in Belgio, e qui in Belgio, nell'ospedale Covid di Gantt, tutti i ricoverati in terapia intensiva sono vaccinati. La protezione del decorso grave dell'infezione promessa, chi ha fatto le dosi, non c'è, e posta, ovviamente, un servizio della televisione belga, dove spiega questo grandissimo problema, che dice, attualmente, il 100% dei pazienti ammessi al servizio di terapia intensiva sono vaccinati. Questo lo dice, praticamente, la TV belga. Andiamo avanti, e questa è una notizia drammatica, ce ne sarà un'altra fra un po', però poi chiedo un commento rapidissimo di Alessandro per salutarci. Vediamo un'altra notizia, e questa qui io l'ho chiamata, questa cosa che prendo sempre dalla rete, ma che, ovviamente, abbiamo accertato. La chiamo, mettetevi d'accordo, alla romana, mettetevi d'accordo. Vediamo un po' chi è che si deve mettere d'accordo. Si deve mettere d'accordo Agostino Miozzo, che è l'ex coordinatore del CTS, con Sergio Abrignani, che è un membro attuale del CTS. Uno dice, il primo dice, ci potranno essere una quarta e quinta dose, e lo dice l'otto novembre. L'altro dice, la terza dose ci protegge per dieci anni, e lo dice due giorni dopo. La domanda è, ma che state a dire? Mettetevi d'accordo, almeno nello sparare scemenze, mettetevi d'accordo. No, ma scusa, meglio di tutti fa quella veterinaria che dagli Stati Uniti dice che comunque loro non sanno niente di quello che ha detto. Ah, vabbè, vabbè. Meglio di tutto, quella veterinaria... Sì, la veterinaria, sì, la veterinaria, sappiamo chi è. Poi abbiamo il Bassotto, il famoso bullo dei Noantri, anzi dei genovesi se è per questo, che lui ha avuto un minimo di confusione in testa nel tempo, perché, a proposito del tempo, vediamo la sua prima dichiarazione al tempo, disse, buona notizia del Bassotto, che svela, protetti con una sola dose. Cioè, questo disse, quando si doveva sparare l'inoculazione all'inizio, siamo con una sola dose, tutto a posto, disse, hai capito, il grande scienziato. Poi dopo ci ha ripensato e ha detto, beh, però il richiamo si farà dopo un anno, disse dopo. Quindi, siccome non gli bastava dirne una di scemenza, già ne aveva detto una quantità industriale, però ne ha detta un'altra. Smentito da se stesso, ancora successivamente, che ad un programma televisivo, Tagadà, ha detto di nuovo, recentemente, non fare la terza dose, è come non aver fatto neanche le prime due. Complimenti, complimenti, complimenti per la confusione e soprattutto per la grande scienza che hai, amico mio. Insomma, io direi che se tu smettessi di fare tutto questo e facessi un altro mestiere, forse t'andrebbe meglio. Purtroppo, però, abbiamo una notizia che ci dà sempre l'onorevole Donato, che ci dice che negli Stati Uniti è iniziata la vaccinazione dei bambini fra i 5 e gli 11 anni. Nelle scuole, purtroppo, anche se le correlazioni ancora non sono provate e quindi su questo c'è ancora un dubbio, però iniziano i primi lutti. Muoiono nel sonno e di malore improvviso. Cioè, quello che prima non accadeva, ora accade. È ovvio che noi siamo costretti a dire beh, non è ancora provata alcuna correlazione. Però l'onorevole Donato pubblica quello che dicono i giornali americani dal Washington Post in avanti e c'è di bambini che a un certo punto cadono e muoiono di infarti nelle scuole o addirittura nel sonno e il mattino dopo non si risvegliano più. Questo sta accadendo negli Stati Uniti. Noi ci auguriamo che tutto questo non sia una correlazione e ci auguriamo che le autorità facciano luce prima possibile ma io non vi posso nascondere che devo dire che quando parlo di questo ho sudore proprio addosso, brividi nel corpo e spero solo che tutto questo sia una casualità una fatalità e una casualità anche se, devo dire, il sudore continua. Andiamo avanti. A chi conviene tutto questo? Beh, la quarta ondata, beh, chi è che la cavalca? Beh, c'è una vignetta molto simpatica che è questa che possiamo vedere la quarta ondata per chi ci ascolta alla radio poi se lo andrà a rivedere in tv ma insomma, in cima all'ondata c'è una barca fatta a forma di siringa marchiata Pfizer con un tizio sopra Gaudente che sorride e dice beh, meno male che c'è la quarta speriamo ci sia anche quinta e sesta così almeno continuo a surfare tranquillo nelle onde poi ci sono invece scusami e qui volevo dirti l'ultima cosa e poi ti lascio la parola veramente per due minuti c'è la questione dell'odio la questione dell'odio il primo inserto che vediamo è una risposta di Maria Giovanna Maglie al bullo l'altro bullo di quartiere che è Bubù il grande Bubù che dice che i figli sono delle gioie ma sono dei maligni amplificatori biologici che si infettano con virus per loro innocui e li replicano potenziandoli logaritmicamente li trasmettono con atroci conseguenze nell'organismo di un adulto ovviamente la Maria Giovanna Maglie dice questo è veramente da ricovero coatto ma hai sentito qualcosa di così ignobile io chiedo poi un giudizio di Alessandro Veloce ma prima di chiederglielo aggiungo anche che il Corriere della Sera in quanto odio non ci va al liscio perché pubblica in prima pagina questa mattina un'altra di quelle cose per odiare per farci odiare gli uni con gli altri e cioè di un altro l'aggettivo mettetelo voi pseudomedico che ricusa i pazienti Novax e il Corriere della Sera che cosa pubblica? Bravo! migliaia di messaggi per questo Giorgetti medico che ricusa i pazienti Novax noi siamo passati dal fatto di portare con l'elicottero d'urgenza Totò Riina che si sentiva male ad Ascoli Piceno per essere operato d'urgenza e per salvargli la vita a Totò Riina e quindi elogiare anche la nostra civiltà il segno della civiltà che anche un pericoloso pluriassassino mafioso veniva comunque curato a spese dello Stato con elicotteri pubblici ed era portato eccetera eccetera che è salvato dalla malattia a dire bravo in prima pagina del Corriere della Sera ad un coglione qualsiasi scusatemi che dice che ricusa le persone che non vogliono inocularsi questa sostanza genica Alessandro a te il commento per cortesia ma guarda il potere è una cosa seria bisognava vedere Ursula von der Leyen premiare Burla amministratore delegato CEO di Pfizer per il quale lavora anche suo marito in una grande festa negli Stati Uniti e quindi capite che c'è una grande regia in cui tutto va al suo posto compreso questo povero Giorgetti che è una macchietta che viene utilizzata dalla grande propaganda però attenzione perché la regia è attentissima perché anche i parametri pseudoepidemiologici che loro fissano come quelli dei ricoveri li decidono loro come dire il numero di contagi avvenuti li decidono loro quindi è come se ci fossero gli attori e i registi nelle stesse mani e quindi questo crea una situazione di pseudo-oggettività che tra l'altro è chiarissima come si è creata nella storia non pensa soltanto alla narrazione e quali caratteristiche ha prima si è detto arriva un virus mortale poi si è evitato che questo virus venisse curato come si sarebbe curato il SARS-1 quindi con cortisone come avrebbe dovuto essere curato normalmente esatto e quindi si sono fatti 120 si sono voluti fare 120 vecchietti morti dopodiché si è detto facciamo le chiusure con le chiusure si è bevuto il cervello della gente perché si è fatta fallire l'economia la gente e cosa dicono adesso attenzione perché a causa dei non vaccinati torniamo alle chiusure prima si crea lo scenoggiatura poi si mette la gente dentro la sceneggiatura poi si dice adesso se la sceneggiatura non procede come vogliamo vi rimettiamo nella sceneggiatura è un disegno bravi eccezionale io devo dire che i miei colleghi psicologi sociali che hanno pensato questa roba maestri spero che li abbiano pagati bene spero per loro perché siccome io credo nel paradiso e nell'inferno sicuramente andranno all'inferno questo è quello che io penso perché se c'è la vita eterna andranno all'inferno spero che se la godano in questa vita con i soldi che hanno guadagnato questo è il mio augurio di godersela finché potranno perché poi li aspetta lo stesso satana che non farà certamente fermare come erode questa setta di fronte ai bambini questa è la mia sinistra profezia da quello che so di questa campagna certamente per la sperimentazione che devono fare per quello che hanno deciso per quello che hanno deciso i loro padroni fermeranno davanti ai bambini quindi questo prepariamo a celebrare il 28 di dicembre la festa degli innocenti della strage degli innocenti e i nuovi erode credetemi care madri e cari padri sono le porte ma certamente probabilmente li consegnerete voi per sembrare dei buoni cittadini perché ve l'avrà detto Bergoglio pace e bene a tutti un caro saluto e grazie grazie alla prossima settimana